In questo numero, emergenza coronavirus, in Toscana 13 casi positivi e 3 guariti. Il presidente Rossi ha firmato una nuova ordinanza, test solo nei casi sospetti. Il presidente della Repubblica a Sant'Anna di Stazzema, visita di Sergio Mattarella al luogo dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 per il cinquantesimo del conferimento della medaglia d'oro al valore militare. Fondi europei, la Toscana ai vertici per capacità di spesa. I dati dell'Agenzia per la coesione territoriale collocano la Toscana in testa alle regioni per allocazione delle risorse dell'UE. Cinghiali, danni più che dimezzati in tre anni. Le rassicurazioni della regione dopo il nuovo allarme lanciato dagli agricoltori. Il tour lift fa tappa a Lucca. Prosegue il tour della regione Toscana dedicato al lavoro, istruzione, formazione e transizioni. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il bilancio in Toscana fa segnare 13 persone positive al tampone del covid-19, ma anche tre guarigioni. L'ultimo caso rilevato è quello di una donna di 42 anni di Pergine e Valdarno, nel comune di Laterina, in isolamento domiciliare dopo l'esito positivo del test. Si tratta di una collega della 32enne risultata positiva al coronavirus dopo il rientro da Milano e ricoverata all'ospedale Fiorentino di Ponte Anniccheri. Proprio quest'ultima, insieme allo studente norvegese ricoverato nello stesso ospedale di Ponte Anniccheri e all'informatico di Pesce, in osservazione all'ospedale di Pistoia, è una dei tre pazienti giudicati al momento clinicamente guariti dai medici. Stabili nel complesso le condizioni degli altri pazienti positivi in Toscana. Altri due a Firenze, uno ad Albiano Magra, in provincia di Aulla, uno a Torre del Lago, tre nel Senese, due a Carrara. Cinque casi di positività al tampone già validati dall'Istituto Superiore di Sanità e 944 le persone in isolamento domiciliare in tutta la regione, tra quelle entrate in contatto con quelle contagiate o di ritorno dalla Cina, dalla Lombardia o dal Veneto. Intanto il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza che prevede il ricorso agli ospedali solo nei casi più gravi e il test diagnostico solo per i casi sospetti. Scuole aperte ma restano sospesi fino al 15 marzo i viaggi di istruzione e gli scambi negli istituti di ogni ordine e grado. Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'ecidio nazifascista che il 12 agosto del 1944 fece 560 vittime, anziani, donne e bambini, in occasione del cinquantesimo anniversario del conferimento della medaglia d'oro al valore militare al comune di Stazzema. Il capo dello Stato ha incontrato Enrico Pieri, sopravvissuto all'ecidio che all'epoca aveva solo dieci anni, poi ha deposto la corona di alloro presso il monumento che ricorda le vittime. Il tempo può attenuare il dolore, può allontanare lo strazio degli orori più indicibili, ma non possiamo consentire che le coscienze si addormentino, che le intelligenze smettono di produrre anticorpi al virus della violenza e dell'odio. Durante la visita a Sant'Anna di Stazzema, Sergio Mattarella ha visitato il Museo Storico della Resistenza e ha incontrato i supestiti dell'ecidio. Un presidente è sempre un presidente, un presidente della Repubblica che viene rendere omaggio ai martiri di Sant'Anna, è sempre una cosa importante, poi una persona come me, come Mattarella, veramente ancora di più. È stata una bellissima giornata, soprattutto il momento in cui il presidente ha incontrato i supestiti. Questa cosa è stata veramente emozionante e toccante. Lì è venuto fuori non solo il presidente della Repubblica, ma anche l'uomo, che si è emozionato, si è commosso a sentire le storie che raccontavano. Prima di ripartire, il presidente della Repubblica ha salutato le persone arrivate a Sant'Anna di Stazzema per partecipare alla cerimonia. La Toscana è la regione del centro nord che spende meglio i fondi europei, secondo i dati pubblicati dall'Agenzia per la coesione territoriale. Un risultato che per l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Cioffo dimostra il dinamismo del sistema imprenditoriale toscano, da supportare, ha poi aggiunto, nella prossima fase di programmazione, dove le principali sfide sono la transizione al digitale e l'economia circolare. In particolare, il programma operativo regionale PORFESR 2014-2020 registra per l'asse 1 su ricerca, sviluppo e innovazione una percentuale di spesa certificata del 67,3% sulla dotazione iniziale e del 63% per l'asse 3 su competitività delle piccole e medie imprese. Ora, in attesa del bilancio di previsione europeo per il settennio 2021-2027, la regione toscana ha approvato il quadro strategico regionale con le priorità di spesa per i prossimi anni. La popolazione di cinghiali in Toscana si è fortemente ridotta negli ultimi tre anni e ammonta circa 160.000 esemplari su un totale di 400.000 ungulati. Così l'assessore all'agricoltura della regione toscana ha risposto citando i dati degli ambiti territoriali di caccia alla preoccupazione espressa da col diretti che segnala un incremento dei danni causati alle colture. Per i maschi il calo della popolazione di cinghiali è da attribuire ai circa 300.000 abbattimenti registrati nell'ultimo triennio in seguito agli interventi di controllo regionali e dovuti alla caccia ordinaria. Decima tappa questa volta a Lucca del tour di lift, lavoro, istruzione, formazione, transizioni, il sistema della regione toscana che ha puntato su una struttura formativa capace di dare più opportunità di accesso al mercato del lavoro. Incontri per divulgare il piano di azione, gli obiettivi raggiunti, dare una panoramica di tutti gli strumenti messi in campo della regione e ascoltare i territori. Nella provincia di Lucca la regione toscana tra il 2015 e il 2019 ha investito in educazione, diritto allo studio, edilizia scolastica e formazione, 150 milioni di euro. Investimenti importanti e anche risultati importanti, che quindi è bene comunicare ai territori in una sorta di rendicontazione sociale e in un'ottica di assoluto miglioramento continuo. Risultati importanti anche sul piano integrato per l'occupazione. Lucca, la provincia di Lucca ha un tasso di disoccupazione del 7,3%, quindi in linea con il dato regionale, migliorato rispetto al precrisi. Al centro del tourlift anche il sistema regionale dei centri per l'impiego. In provincia di Lucca, tra in aree, sono in particolare il comparto del cartario e della nautica e il turismo. L'area è un'area in cui ha varie vocazioni, sicuramente turistiche, nella parte che sbocca sul mare, basta pensare all'area di Pietrasanta, Via Reggio. Poi c'è un'area più manifatturiera, con gli istitamenti dell'industria cartaria e ridosso invece della zona costiera, sempre l'industria e le imprese che lavorano nel settore della nautica. E quindi è un'area che ha una vocazione mista, quindi turistica, industriale, con alcune importanti anche realtà nel settore agricolo e agroalimentare. L'80% degli utenti a livello regionale si è detto soddisfatto dei servizi erogati dai centri per l'impiego toscani. I prossimi appuntamenti degli incontri lift si terranno a Piombino e a Livorno.